A te dico mia mamma e mio papà che mi hanno trasmesso questa passione, ad Alessandra, a Fatti, a Corrado e a Lola e a tutti voi. Ma quante storie ho già vissuto nella vita e quante programmate chi lo sa? No, 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 stai pure, stai pure, stai pure. Storie di fiughi, di grandi praterie senza confini, storie di deserti. E quante volte ho visto dalla frulla di una barra, tra spruzzi e vento, l'immensità del mare, smaltersi dentro e come una carezza a casa, illuminarmi il cuore. E poi la neve bianca, gli alberi in chiaveto, l'abbraccio del silenzio, colmarmi tutti i sensi. Non sentirsi solo qui, tra le montagne grandi, e grandi spazi immensi. Poi tornare qui, riprendere la vita, dei giorni uguali ai giorni. Discutere con te, tagliarmi con il ghiaccio dei quotidiani inverni, non lo posso accettare. Non è la vita che avrei voluto mai, desiderato vivere. Non è quel sogno che sognavamo insieme, fa piangere. Eppure io non credo questa sia un rega mia per noi. Bravo! Bravo! E invece sarà un perché, che vorrei scoprirlo stasera. Se stiamo insieme, qualche cosa c'è, che ti unisci ancora stasera. Mi manchi sai, mi manchi sai. Ah, 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 ah. Bravo! Grazie. Grazie a tutti. E poi tornare qui, riprendere la vita, che sembra senza vita. Discutere con te, consumare così pochi istanti eterni, no, non lo posso accettare. Che vita è restare qui a lavorarmi in discussioni sterili, giocare con te a farsi male al giorno, di notte poi rinchiuderli. Eppure io non credo questa sia un rega via per noi. Se stiamo insieme, ci sarà un perché, e vorrei scoprirlo stasera. Se stiamo insieme, qualche cosa c'è, che ci unisci ancora stasera. Mi manchi sai, mi manchi sai. Bravo! Grazie a tutti. Bravo! Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Vincitore della quinta edizione. E anche tu, lo ricordiamo, il prossimo anno noi diamo la possibilità di fare un concerto, quindi tu sicuramente ti preparerai adesso nel corso dell'anno, giusto? Certo, grazie mille, grazie mille, è il regalo migliore che potrete fare. Vedete, vedete, questo è il tuo regalo, è il tuo regalo, è il tuo regalo. Grazie mille. Grazie a te, sei stato fantastico, così come tutti i cantanti, grazie. Io chiudo, vedi qui carana, mia Alessia, naturalmente.